ciao ragazzi e ragazzoni salve ragazzi e ragazzoni trovo ad un hack su un forum che dà il codice gratis di pikachu scrive pika p i k a c h u 20 e mi dà il codice per pikachu di ash figo ragazzo ce l'abbiamo anche noi ora lo andiamo a prendere quel cappello di ash col primo berretto col primo cappellino di ash fighissimo è al random ragazzi in iscrizione lascia il codice permesso bene se vuoi vedere che non è un troll non è un fake ma faccio vedere subito per dimostrare che questo questo non è un video troll non è un fake ragazzi un attimo un pokemon del precedente evento qua ovviamente anche spiega il mige da figo Ragazzi consigliere mi salva due volte Non so mai È random Vedete? Ecco il Pikachu con pelle di Ash Premonatore Ash Figo ragazzi abbiamo il Pikachu di Ash Vediamola nell'info box E sarà rifletta nella valle di Pikachu Beh cosa puoi dirvi ragazzi? È tutto Vi lascio anche l'info box In descrizione Il codice Dobbiamo arrivare a ragazzi importantissimi Dobbiamo arrivare Ragazzi importantissimi Dobbiamo arrivare a Mimo A Quando siamo l'ultima volta I like Ok Mimo 50 like Per il prossimo codice E E Se abbiamo 250 like Mi clonerò questo Pokémon E sarà tutto vostro Promesso Da vostro caro Stefano Parma E tutto Ciao 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 Ciao